Si oppongono alle parole non pronunciare in vani il nome del Signore la bestemmia contro Dio, la Chiesa e i Santi. Si oppone il sagrileggio, trattare indegnamente persone, luoghi, oggetti sagri. La simonia, si scambiano beni spirituali con denaro e vandaggi materiali. Il giuramento falso che fa di Dio il garante di una menzogna. Il mancato adempimento di un voto. Vediamo un'esperienza di vita. Lo scrittore toscano Giovanni Papini passaggiava con suo amico fuori Firenze quando si avvicinò un povero per chiedere l'elemosina. Il suo amico fu molto più svelto di lui a prendere il portafoglio e lui rimase impacciato perché già l'altro aveva aperto il portafoglio e gli fa vedere una moneta di grande valore, un foglio di grande valore e dice questi soldi sono tuoi a una condizione che devi pronunziare tre grosse bestemmie. quel povero uomo che aveva già steso la mano per prendere quei soldi piano 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 la ritira, fa un inchino, volte le spalle e va via. dice il Papini a me e all'amico non rimane altro che ritornare dentro città mortificato da quel gesto. una umiliazione così grande la bestemmia offende Dio ma offende anche l'uomo e quindi è un modo per rendersi conto, riflettere su questi episodi perché bisogna distruggere la bestemmia. L'offesa a Dio non si compie solamente con parole offensive di odio ma anche attribuirgli la crudeltà, l'ingiustizia nel negare i suoi attributi più giusti, più veri, la santità, la provvidenza, la misericordia. L'odare il Signore con la vita, con ogni forma di preghiera, la preghiera insegnateci da Gesù, la preghiera dei salmi con i quali Gesù pregava, pregare attuando il progetto di Dio su ciascuno di noi, Dio ha creato un progetto. Attuando questo progetto questa è la preghiera più bella che noi possiamo fare. Costruire il regno di pace, di giustizia, di amore. Nessuno si può chiudere nel suo privato. Padre Pio non poteva rimanere indifferente di fronte a chi diceva, ho bestemmiato Dio, la Madonna, Gesù Cristo. Perché? Perché Padre Pio diceva a se stesso, ma Dio è mio padre, la Madonna è mia madre, Gesù Cristo è mio fratello. Per cui quando sentiva che uno bestemmiava cominciava a trimare e difficilmente si dominava. Perché si insultava la mamma sua, il papà suo, il suo fratello Gesù. La bestemmia, diceva Padre Pio, distrugge anche la cenere del focolare.